Del corso mi è piaciuto l'intensità del gruppo, l'energia che si è creata, il coinvolgimento che riesce sempre a creare comunque Patrizia con tutti, la non esclusione di nessuno, tutti uniti sempre e comunque. Lo consiglio perché si arriva sempre in uno stato comunque di confusione. Poi mano a mano riesci a sviluppare all'interno di te tutta una serie di questioni che credevi comunque risolte e invece sempre emergono, ne escono di nuove e vengono comunque trasformate con una consapevolezza diversa che difficilmente, anche con un grosso lavoro personale, non si riesce comunque a effettuare. Il gruppo aiuta veramente tanto e la coach veramente, veramente tanto. Ho lasciato andare tantissime delle mie paure, tantissimi dei miei dubbi di questa confusione che avevo comunque dentro. Porto a casa comunque una grossa rinascita interiore, una trasformazione e sì, una nuova rinascita con una consapevolezza diversa. Dire grazie è veramente riduttivo, è sempre un abbraccio, un coinvolgimento e un immenso grazie sempre all'universo che me l'ha fatta conoscere anni e anni fa. Me la porto sempre comunque nel cuore. Grazie, un bacio. Grazie.